Ti posso chiedere come ti sei trovata con me? Benissimo, Nadio, veramente. Lavoro strepitoso, sono felicissima, felicissima, veramente soddisfatta. Grazie, cos'è che ti è piaciuto del mio lavoro? La professionalità, la serietà e anche l'empatia, hai capito subito quello che volevo per la congiatura del trucco, già la prima prova era esattamente quello che volevo e che non ero neanche riuscita ad immaginarmi, quindi grazie di cuore. Grazie.